buonasera a tutti vi do il benvenuto in nome del filosofi con ghislieri al terzo incontro del ciclo sui 250 anni dalla nascita di beethoven e io farò un'introduzione brevissima per non rubare tempo al professor of elders e ci tenevo solo a specificare che questa è la seconda conferenza di carattere più marcatamente filosofico ed è un po concepito nell'idea originale come il risvolto complementare della lezione precedente se la lezione precedente tenuta dal professor bertinetto era rivolta a circoscrivere il difficile rapporto tra l'estetica musicale beethoveniana e invece la filosofia dell'arte di hegel questa conferenza sarà dedicata a inquadrare la coraggiosa equazione che poi è un del tutto particolare come equazione ma ce lo spiegherà meglio il professor of elders che adorno stabilisce tra la filosofia hegeliana e la musica di beethoven posso dire soltanto in sintesi che la produzione scientifica di del professor of elders tra l'altro molto vasta spazia da argomenti di estetica della filosofia classica tedesca e quindi il tema per esempio dell'ironia in solger ho anche argomenti appunto di estetica hegeliana quindi come il ruolo della poesia confronto con la musica nel sistema delle arti fino poi a i contributi più significativi dell'estetica novecentesca quindi beniamine adorno e in particolar modo è anche un fatto che ci interessa particolarmente oggi il professor of elders si è occupato di filosofia della musica da che riguarda anche la seconda metà del novecento quindi anche di autori come messia e anche age che conosce in maniera abbastanza approfondita non solo come frequentatore saltuare ma anche non solo a livello di facciata ma anche in maniera piuttosto approfondita quindi è un privilegio per noi poter ascoltare un suo intervento relativo a uno dei suoi tempi di ricerca più cari che è appunto la lettura di Beethoven da parte di Adorno non avrei molto altro da aggiungere perché poi ci spiegherà molto più approfonditamente il professore e lo ringrazio nuovamente dicendo la parola a nome del Filosoficum Ghislieri bene grazie io mi ringrazio molto gli organizzatori ovviamente per aver pensato a me per questo intervento e soprattutto Marcello Gastaldi che avete appena sentito che devo dire si occupa con premuna precisione ed esattezza di tutto quello che riguarda il Filosoficum Ghislieri e quindi grazie di cuore a tutti quanti dunque io ho il compito di parlarvi dell'interpretazione che Adorno aveva pensato bisogna esprimersi così di scrivere di Beethoven e vi dico semplicemente due cose sul destino di questi studi durano per praticamente 30 anni iniziano nel 33 se mi ricordo bene 34 no 37 scusate nel 37 e vengono abbandonate nel 66 quindi tre anni prima che Adorno muoia perché non riesce a concludere questo libro tuttavia il libro è stato pubblicato prima in tedesco poi 5 anni dopo nel 95 se mi ricordo già era tradotto in italiano quindi è disponibile ma è fatto di appunti di frammenti di osservazioni e di intuizioni da parte dell'autore che non sono sistematizzate le ha un po' messe a posto il curatore il Fido Rolf Tiedemann però appunto rimangono dei frammenti io ne ho tratto una linea interpretativa che parte da ciò che ritengo l'assunzione più importante che Adorno fa che consiste semplicemente in questo ai tempi di Hegel e Beethoven che come sapete sono nati tutti e due nel 1770 Adorno sostiene che non è la poesia l'arte più alta tra le arti come voleva Hegel e con lui molti altri ma è la musica e appunto crea in questo modo il parallelismo tra Beethoven e Hegel sulla base di che cosa? Sulla base del procedimento dialettico hegeliano e in parallelo con lo stile compositivo di Beethoven e di questo appunto intendo parlarvi vi visualizzo adesso una pagina per avere davanti agli occhi anche gli strumenti con i quali lavoriamo perché non posso dare per scontato che ci siano proprio tutti nella mente di tutti quindi facciamo questa condivisione che dovreste vedere adesso che scorriamo velocemente e che sta un po' alla base diciamo così è la mappa concettuale che sta alla base di ciò che intendo fare dunque il mio intervento consta di una breve introduzione che si basa un po' sui concetti che vedete scritti e poi di tre parti come una classica sonata o un classico concerto per strumento e orchestra di cui la prima ha il titolo musica e concetto la seconda sistema tonale e ricreazione della forma e il terzo l'ultimo Beethoven ovvero Spechtil che vuol dire lo stile maturo possiamo fare qui il finale che sarà un finale un po' tragico ve lo dico subito e poi insomma vedremo anche con i tempi con i vostri gusti ho preparato anche una pagina un po' più leggera anche se nel caso di Beethoven è sempre un po' difficile parlare di vera leggerezza dove intendo darvi qualche cenno sulle conseguenze culturali e politiche di ciò che è successo negli anni nei primi decenni dell'Ottocento almeno nella lettura diciamo largamente di Adorno io mi riferirò sempre ad Adorno quindi quello che dico sostanzialmente proviene da quel libro o da altri testi quindi non mi dilungo in citazioni per non appesantire questo intervento naturalmente è una mia lettura di Adorno che a sua volta legge Hegel e Beethoven queste sono le tre parti tutta la disamina è basata su appunto questa analogia tra dialettica e musica e noi abbiamo per quanto riguarda queste due parti dei parallelismi anche concettuali che sono queste ve le evidenzio lievemente nella parte della dialettica nella parte dialettica cioè hegeliana abbiamo un concetto chiave che è la ausführung tradotta con attuazione o esecuzione e nella parte musicale noi abbiamo il pendant che è lo sviluppo scusi lo sviluppo che in tedesco però è durchführung ho messo i termini tedeschi perché possiate vedere proprio anche le assonanze che giocano tra la musica e la dialettica poi abbiamo il famoso superamento della dialettica hegeliana che è Aufhebung della quale vi parlo subito e che nella musica nella forma sonata che è la forma centrale della musica Beethoveniana è rappresentata dalla ripresa cioè ciò che succede alla fine del primo movimento di un concerto di una sonata di una sinfonia e poi abbiamo il lavoro del concetto hegeliano che immagino tutti conosciate cioè la mediazione cui corrisponde nella musica la variazione evolutiva questo è il termine di Schoenberg che appunto sottolinea non soltanto il carattere variativo ma anche di variazione ma anche il fatto che ci conduce da qualche parte ci conduce da qualche parte ovvero il lavoro motivico che accade all'interno di questa parte della forma sonata ecco la forma sonata molto brevemente schematicamente esposta la forma sonata consta di tre di tre parti sostanziali una è l'esposizione in questa parte vengono esposti due temi che hanno da un lato a che fare con loro ovvero sono complementari complementari capirete che questo carattere è importante dall'altro però c'è anche una tensione tra i due temi e questa tensione è ciò che nella filosofia hegeliana è rappresentata rappresentato dalla dialettica alla fine però questi due temi possono entrare a collaborare insieme e costituire sostanzialmente di nuovo una unità a un livello più alto questo lavorare insieme ovvero il lavoro motivico succede nella parte che abbiamo chiamato sviluppo eccolo qui e attraverso il lavoro motivico che cosa succede nello sviluppo sostanzialmente il compositore compie un lavoro prettamente logico cioè analizza i temi nel senso che li divide in piccole parti e poi rimonta insieme queste piccole parti sintesi in modo diverso e con ciò tutto quanto evolve appunto variazione evolutiva verso quale meta tenete sempre conto che qui il tempo è teleologico esattamente come in Hegel la meta dove tutto è indirizzato è appunto la ripresa eccola qui la ripresa e nella ripresa che cosa succede sostanzialmente io semplifico un po' chi conosce queste cose sa che è un pochino più complesso ma mi preme di essere comprensibile nella ripresa vengono riesposti i temi i due temi che erano già stati esposti nell'esposizione e quindi nella ripresa si riconosce che tutto ciò che vi era all'inizio ovvero che il risultato meglio detto così che il risultato della ripresa è sostanzialmente ciò che abbiamo sentito all'inizio piccola annotazione noi sappiamo tutti che al nostro orecchio non suona così e questa è la meraviglia di questo tipo di musica non suona così noi possiamo saperlo possiamo leggerlo sulla partitura ma al primo ascolto noi ascoltiamo la ripresa in modo diverso rispetto all'esposizione per un semplice motivo perché c'è stata la durchführung ovvero lo sviluppo che ha tirato fuori da questi due temi di tutto ciò che potenzialmente vi era nascosto c'è una specie di entelecheia in questo modo di procedere che è appunto teleologico e va verso una meta così almeno sapete schematicamente che cos'è una forma suonata si chiama così e veniamo allora alle coppie dialettiche che ci interessano da vicino e che accomunano Hegel e Beethoven nella lettura di Adorno dalla parte hegeliana abbiamo la logica concettuale cui corrisponde da Beethoven naturalmente una logica musicale in ambe due abbiamo una dialettica tra soggetto e sostanza che nella parte musicale viene tradotta così espressività soggettiva che si deve confrontare con forme tradizionali che esistono già e naturalmente in questa dialettica come in Hegel così anche in Beethoven abbiamo questa coppia tra parte intero ovvero individuo e società per finire poi con da un lato la trascendenza della forma la forma filosofica o la forma musicale la forma suonata e dall'altro lato la immanenza della forma in quanto intero come sapete la immanenza della forma significa in Hegel che tutto ciò che può far parte del sistema filosofico deve essere prodotto dalla immanenza di questo sistema stesso cioè dalla sua inerente dialettica e non è diverso in Beethoven almeno fino a un certo punto perché poi ovviamente i due si dividono cioè tutto viene desunto ovvero dedotto dai due temi che vengono esposti nella prima parte della forma suonata così come se volete nella scienza della logica tutto inizia con la prima sintesi che è quella tra essere e nulla che è il divenire limitatamente a Beethoven abbiamo uno stile drammatico e teleologico che è lo stile del Beethoven classico quello intorno al 800 fino all'810 15 circa che poi nel Beethoven maturo muta in uno stile più epico e allegorico e nel caso sempre di nuovo di Beethoven e Hegel insieme i concetti di mediazione abbiamo il divenire che è sostanzialmente analogo in musica e in filosofia la processualità un altro analogo tra Hegel e Beethoven il tempo teleologico e anche questo come sapete in Hegel è teleologico storico il tempo così anche in Beethoven e fin qui la concettualità che intendo mettere in campo ma tutta questa concettualità sarebbe claudicante se non chiarissimo almeno per sommi capi che cos'è la dialettica che tutti pensano di sapere che cos'è ma non è propriamente così ovvero un rapporto dialettico è contraddittorio e su questo siamo tutti d'accordo ma tenete conto che i due elementi che stanno in un rapporto contraddittorio dialettico devono essere anche complementari ecco il secondo momento devono cioè riuscire a completarsi vicendevolmente e questo completarsi naturalmente avviene in Hegel attraverso il lavoro del concetto nella dialettica e in Beethoven attraverso il lavoro motivico eccolo qui e attraverso la durchführung ovvero lo sviluppo importantissimo questo momento e i due elementi in contraddizione complementare devono essere suscettibili di elevarsi a una unità superiore e nuova rispetto a quella dalla quale siamo partiti e questo per quanto riguarda la struttura della coppia dialettica la dialettica spinge verso un momento che tutti noi conosciamo che è quello del superamento ovvero della Aufhebung ma anche nel caso della Aufhebung è importantissimo sapere che non solo eleva a un livello superiore come è ovvio non solo e questo è un po' meno ovvio ma molti lo sanno toglie la forma del rapporto che c'era precedentemente e tenete conto se noi non ascoltiamo la ripresa così come abbiamo ascoltato l'esposizione nonostante i temi sono gli stessi succede esattamente questo cioè nel nostro orecchio nella nostra testa è stata tolta la forma che i temi avevano nell'esposizione ma in terzis c'è anche questa parte qui la conservazione del materiale tematico che ho utilizzato questa è la dialettica hegeliana che però per il Beethoven classico funziona esattamente così quindi tenete per favore sempre conto di questo perché altrimenti la dialettica rimane monca io lascio questa pagina per la parte introduttiva del mio intervento prego di chiudere i microfoni così non ci sono rumori e poi con la prima parte tolgo questa pagina appunto dunque come probabilmente sapete Hegel sostiene nella fenomenologia dello spirito che nel lavoro scientifico filosofico non sono i risultati l'importante ma l'importante sono i risultati insieme allo sviluppo e alla processualità cioè alla ausführung che è questa l'esecuzione o attuazione che li ha prodotti quindi insieme alla processualità del lavoro del concetto eccolo qua del lavoro del concetto nella forma sonata ripeto un po' in forma un po' più allungata perché non sia soltanto uno shock questa questi primi minuti nella forma sonata noi abbiamo i risultati che ascoltiamo nella ripresa e qui vengono appunto prodotti questi risultati attraverso il lavoro motivi con la variazione evolutiva che troviamo nello sviluppo nella Dürichführung che fa appunto il panda musicale alla Ausführung hegeliana nella filosofia quindi la filosofia hegeliana e la musica di Beethoven sono davvero almeno per come procedono degli analoghi come appunto sostiene Adorno qual è il contenuto di questi di queste analogie e veniamo alle coppie dialettiche sono soggetto e sostanza per rimanere nella terminologia hegeliana nota i rapporti cioè tra soggetto e sostanza che nella musica si traducono nei rapporti tra espressività soggettiva che si deve confrontare con forme tradizionali già esistenti il soggetto cerca forme di espressione o di comunicazione ma le forme di comunicazione non le può produrre questo vale in generale per qualsiasi comunicazione o espressione non le può concepire o produrre da solo ma lo deve fare con il materiale che la tradizione e l'epoca in cui nasce gli mette a disposizione nella parte hegeliana noi conosciamo bene questa frase ma vale la pena citarla qui non bisogna concepire la verità soltanto come sostanza bensì io traduco un po' diversamente bensì altrettanto come soggetto ovvero la sostanza è tale soltanto se un soggetto riesce a produrla una forma musicale tradizionale è tale soltanto se un soggetto Beethoven riesce ad appropriarsene e riprodurla in modo soggettivo sostantivo in uno ed ecco che qui abbiamo questa questa unità superiore che attraverso la dialettica eccola qua elevare togliere ma anche conservare soggetto e sostanza in una forma diversa ed elevata in una nuova unità quindi la problematicità nei due autori è la stessa ma l'impulso critico nei confronti dello sviluppo storico porta alla divisione tra Hegel e Beethoven perché come sapete Hegel rafforza la sistematicità del sapere razionale e concettuale Beethoven invece passa dalla fase classica dove sostanzialmente la sua maniera di comporre è analoga alla dialettica hegeliana ecco da lì però Beethoven passa a criticare proprio che cosa proprio questa impostazione classica della forma sonata fondata anch'essa in un sistema che preesiste in Hegel il sistema viene creato dal soggetto Hegel nel caso di Beethoven invece il sistema preesiste e si chiama sistema tonale ovvero la musica tonale che in quel momento come sapete raggiunge il suo massimo abbiamo parlato dei temi come punto di partenza i due temi nella forma sonata della musica questi temi corrispondono a ciò che Hegel chiama il sensibile se avete presente il primo capitolo della fenomenologia dello spirito noi abbiamo a che fare proprio con questa più bassa e più astratta forma in cui si svolge il pensiero ma bisogna sempre tenere conto che non esiste una immediatezza se non prodotta attraverso la mediazione questo sia in Hegel sia in Beethoven e quindi vi cito una frase dalla scienza della logica dobbiamo sempre tener conto che sia i temi nella musica sia i punti di partenza nella filosofia sono fatti in questa maniera Hegel scienza della logica non vi è nulla nel cielo o nella natura o nello spirito o ovunque sia che non contenga tanto l'immediatezza quanto la mediazione ecco che nella coppia iniziale che sia essere nulla nella scienza della logica o i due temi nella forma sonata beethoveniana ci devono essere sia l'immediatezza espressiva quindi traduco già in termini più musicali la melodia sia però anche la capacità tra questi due temi di entrare in un rapporto di mediazione molto molto stretta questo è molto importante e ci spiegherà poi strada facendo molte molte belle cose le cose su Adorno ve le ho già dette vi aggiungo soltanto che la l'abbandono del progetto di scrivere un libro su Beethoven per Adorno sta nel fatto che alla fine Adorno non riusciva a spiegarsi come mai Beethoven alla fine della sua carriera si rivolgesse a forme arcaiche qui sta al centro il famoso saggio del 57 sulla missa Solemnis e quindi una messa Beethoven non ha mai scritto musica sacra qui alla fine della sua vita lo fa e Adorno appunto si pone questa domanda come mai colui che è andato oltre la tonalità perché questo è il problema come mai allora da lì si rivolge indietro verso forme più arcaiche cioè la musica sacra ma anche la polifonia del del 6 e del 700 ecco non riusciva a dare una risposta Adorno a queste problematiche quindi è in corso in una aporia concettuale che ha fatto sì che nel 66 come dicevo prima ha abbandonato il progetto di un libro su Beethoven ecco ancora su Beethoven quello che adesso tematizzeremo è il Beethoven classico ovvero il dinamismo drammatico all'interno delle sue composizioni che sono ripeto le più vicine alla concezione dialettica hegeliana ma vi ripeto che Beethoven nella sua maturità si allontana da questa impostazione e anticipa addirittura le sinfonie di Gustav Mahler nel senso che adopera poi un metodo più epico e più allegorico quindi Beethoven è da un lato colui che compie e costituisce la forma classica della sonata e anche alla fine della sua carriera colui che la critica e che la supera la trascende ecco è questo e fin qui l'abbiamo detto tenete conto che ogni volta quando l'epica e la legoresi entrano in primo piano nella produzione culturale di un'epoca noi siamo di fronte a un'epoca di crisi e di passaggio questo ve lo dico senza poterlo dimostrare posso solo rinviare la teoria del romanzo di Lukacs ma anche all'estetica di Hegel ogni volta che si passa da un'epoca a un'altra abbiamo a che fare sostanzialmente con forme epiche nella letteratura perché questo perché le allegorie e il carattere epico subentrano a una espressività in crisi che non ha più a disposizione una espressività simbolica totalizzante e sostanziale e se dico totalizzante e sostanziale avete già capito in che modo Beethoven non critichi soltanto la musica del suo periodo classico ma anche la filosofia hegeliana diciamolo senz'altro fuori dai denti e con essa con essa molte cose che poi hanno risvolti appunto politici Beethoven invece come sapete rafforza il concetto logico razionale costruisce il suo sistema ma ambe due e questo nuovamente li unisce Beethoven e Hegel nonostante le soluzioni sono diverse alla fine ambe due si rendono conto di che cosa che sta incombendo la barbarie e Beethoven trascende la forma ben fatta e chiusa in sé e va oltre Hegel invece costruisce quel cerchio di cerchi costruito immanentemente con il quale pensa di aver costruito un baluardo contro questa barbarie incombente vi posso togliere lo schermo e veniamo al primo capitolo al primo movimento diciamolo in termini musicali musica e concetto Beethoven e Hegel avevano lo stesso problema che può essere formulato in questa maniera come è possibile la creazione di un intero ovvero di una sostanza senza che si faccia violenza ai singoli elementi cioè i soggetti che la costituiscono perché non c'è intero senza i particolari la logica e le forme adottate dai due sono simili e anche perché questo in generale e non soltanto per quanto riguarda Hegel e Beethoven la musica costituisce un gioco con forme logiche pure esattamente come la filosofia utilizza forme logiche con una piccola differenza ma vi faccio qualche esempio ecco che cosa sono queste forme logiche pure sono nella logica la posizione nella musica il tema così come viene esposto appunto nella prima parte della forma sonata che è la esposizione altro concetto puro la identità in Hegel o nella filosofia che in musica si dice ripetizione il ritornello per esempio ma anche come abbiamo visto la ripresa che riprende ciò che è stato inizialmente esposto poi abbiamo la similitudine che nella musica incontriamo nella parte centrale della forma sonata cioè nella variazione evolutiva vi ho detto poi abbiamo il concetto della contraddizione che incontriamo nel bitematismo della musica poi abbiamo il rapporto tra parte e tutto importantissimo dopo ciò che ho detto come problema comune a Beethoven e a Hegel e questo rapporto nella musica si dice il rapporto tra temi particolari e forma sostanziale ma questo rapporto dialettico può essere ulteriormente tradotto e ampliato la contrapposizione tra parte e tutto nella musica e quella contrapposizione tra melodia cioè espressività soggettiva e armonia ovvero sistema tonale questo punto lo approfondiremo tra breve di questi sono i diciamo i giochi che accomunano filosofia e musica in generale e naturalmente in particolare nel nostro caso dove è che sta la differenza sta nel fatto che la musica non ha la necessità della sintesi che nella filosofia si costituisce nel giudizio nel giudizio dove il particolare viene subordinato al concetto universale la musica invece opera con costellazioni tra i particolari che in quanto tali rimangono vengono conservati cosa che invece nella logica filosofica non accade perché la logica filosofica deve astrarre è astratta la musica invece è concreta inoltre il concetto filosofico che cos'è il concetto filosofico il concetto filosofico è mi mi fornisce lo scopo cui un particolare al quale io applico questo concetto il concetto ripeto mi fornisce lo scopo cui il particolare mi può servire questo è Kant e così anche Hegel non è diverso ma Kant lo ha scritto nel modo più chiaro tuttavia lo scopo non proviene dal particolare oggetto ma viene imposto dal concetto universale del soggetto perché delle cose stesse noi non possiamo sapere nulla come è noto ecco e in questa operazione consiste la violenza delle procedure concettuali qualsiasi esse siano la musica non ha questa necessità ho detto chiudo questa parte con una breve affermazione del giovane Hegel in questo caso quando dice molto cantianamente comprendere significa dominare ecco veniamo alle similitudini tra Hegel e Beethoven vi ho già detto che ciò che è il sensibile per Hegel è per Beethoven il tema ovvero i due temi ripeto sono caratterizzati ambe due da immediatezza da un lato e astratezza perché non sono ancora concresciuti non si sono ancora completati non sono ancora ascesi non si sono elevati a una unità più alta sì queste cose le abbiamo già dette veniamo magari ecco a momenti più più dettagliati del procedere del procedere filosofico Hegeliano alla negazione determinata la negazione determinata ecco la negazione determinata è ciò che nella musica succede nella variazione evolutiva si nega sempre un particolare momento precedente trasformandolo in forma di variazione musicale in qualcos'altro tornerò subito a questo momento che per Hegel è di per Hegel ovviamente lo sappiamo ma per Beethoven anche di fondamentale importanza questa negazione determinata come sapete contribuisce alla immanenza della forma in Hegel ma altrettanto succede nelle composizioni di Beethoven immanenza della forma cosa significa significa che i risultati della mediazione ciò che è la ripresa nella forma sonata non devono provenire dall'esterno ma possono unicamente essere prodotti dalla processualità dialettica per Hegel o dalla processualità compositiva di Beethoven si arriva attraverso queste mediazioni che è importante in Hegel come sappiamo è il cuore di tutta la sua filosofia ma lo è anche in Beethoven soprattutto nella fase classica si arriva alla fine a ciò che Hegel ha chiamato riconciliazione o altrimenti lo spirito assoluto e nella musica noi arriviamo come ho già detto alla ripresa il nuovo risultato che noi ascoltiamo risulta però essere lo stesso materiale tematico della esposizione non molto diversamente appunto da da Hegel vi ricordo ancora potete tranquillamente prendere la prima triade della scienza della logica essere nulla se vi ricordate vengono descritti da Hegel praticamente con le stesse parole perché sono praticamente identiche con piccole differenze in realtà non essenziali anche perché essere e nulla o nel caso dei due temi di Beethoven sono qualche cosa ovvero sono significativi espressivi o altro unicamente se entrano nel processo della mediazione del divenire che è appunto la prima delle sintesi nulla vi è all'inizio tutto è nel flusso del divenire vi ricorderete che Hegel nell'introduzione alla scienza della logica dice questo è un libro che tiene conto di ogni cosa che il grande vecchio era scritto ha scritto e così è effettivamente nel caso di Hegel cioè nella forma logica della filosofia noi arriviamo dunque alla identità identità tra che cosa tra soggetto mediatore e oggetto mediato in Beethoven invece arriviamo a una forma che si è autoprodotta come totalità identica e si è autoprodotta attraverso un movimento che procede per contrapposizioni il bitematismo dal quale appunto parte quindi identità e totalità si costituiscono anche nella forma sonata non solo nella dialettica Hegeliana sono i risultati appunto della mediazione esiste dunque anche un sistema idealistico nella musica di Beethoven lo sottolineo perché così viene fuori meglio il critico o l'autocritico Beethoven alla fine a questo punto Adorno dice una frase molto importante che ha dato titolo al suo libro il libro si intitola Beethoven e sottotitolo filosofia della musica senza ulteriori specificazioni perché Adorno sostiene che comprendere Beethoven significa comprendere la tonalità significa comprendere il sistema tonale anche Beethoven sussume come Hegel i singoli momenti cioè i temi o le loro parti sotto il concetto astratto che nel suo caso però si chiama sistema tonale nel caso di Hegel si chiama sistema filosofico tuttavia l'intero scaturisce soltanto ripeto dal divenire e dalla interazione dialettica tra i singoli e veniamo ora a un primo momento che poi vi spiegherò anche meglio a questo punto vi condivido di nuovo uno schermo che è questo qui e andiamo alla prima pagina dell'eroica terza sinfonia opera 55 dove rincontriamo la negazione determinata ovvero ciò che Adorno chiama momento negativo e dov'è questo momento negativo anche qui vi faccio una piccola cosa molto schematica e semplificata di tecnica di lettura ogni opera tonale scritta in una determinata tonalità nel nostro caso il mi bemolle maggiore e lo si capisce quando si guardano questi questi segni scusate questi tre bemolle questi qua questi tre bemolle a chi sa leggere la musica dicono che questo è un mi bemolle maggiore punto questo significa che davanti alle singole note come potete vedere noi non abbiamo né bemolli né di eresi perché sono tutte pensate appunto all'interno di questo sistema di riferimento che è il mi bemolle maggiore non ce ne sono ve ne vedete qualcuno da qualche pa cosa abbiamo qui abbiamo un diesis questo è un momento negativo e adesso vediamo in che cosa consiste sono i violoncelli che alla settima battuta suonano una nota che non appartiene al sistema di riferimento che è il mi bemolle maggiore il do diesis non è una nota di riferimento per dirla in un modo che tutti possono comprendere do re mi fa sola si è la scala di do maggiore se io suono do do diesis re mi fa sola si allora suono una nota che non fa parte di questa scala che è cioè dissonante e questo è il punto ascoltiamola e mi scuso per la qualità della musica l'abbiamo testata prima ma non sembra essere granché aumentata al massimo il vostro volume così la sentirete meglio eccolo qua la sentirete la sentirete ecco fin qui ve lo faccio riascoltare tra un attimo vi voglio però leggere un po' questa parte qua che cosa abbiamo abbiamo un accordo dell'intera orchestra in fortissimo ripetuto nella prossima battuta questo l'avete sentito questo è l'accordo di mi bemolle maggiore poi parte questa sarebbe l'esposizione del primo tema che però va a finire su questo do diesis che non solo è una nota fuori scala ma viene addirittura prolungata è la nota più lunga che ha la durata più lunga in questa pagina sapendo questo riascoltatelo e soprattutto ascoltate quello che succede dopo questa nota eccola scusate dovevo interrompere vi spiego che cosa avreste dovuto sentire poi potete con tranquillità rifare l'esperimento la musica è disponibile ovunque detto procede così afferma con forza direi quasi violenza il sistema di riferimento la tonalità di mi bemolle maggiore inizia subito l'esposizione del tema del primo tema che però inciampa su questo do diesis che abbiamo visto prima che viene prolungato e costituisce no come ho detto prima con adorno è un momento negativo che quasi arresta la musica che quasi si no entra in uno stato di fermo e sospesa e sospesa perché questo do diesis ostacola il flusso teleologico del tempo musicale entra in conflitto con che cosa entra in conflitto con il sistema tonale cioè con la tonalità nella quale questo movimento è scritto entra in conflitto con lo spirito oggettivo della tonalità base ma anche se dopo il do diesis tutto è un po sospeso mi ricordo nella prima lezione vani moretto parlava di sospensione creativa ecco questo è uno di questi momenti tutto è un po in sospeso sta per fermarsi la musica praticamente i musicisti stanno mettendo via gli strumenti stanno andarsene a casa perché vedo non è riuscito a scrivere neanche la seconda pagina di questa sinfonia tentano ancora di riesporre il tema ma lo fanno per due volte poi si rifermano poi viene questo momento praticamente di balbuzie di balbuzie e a un certo punto però la musica si riprende e con tutta forza e tanto vigore ecco che viene esposto il tema fin qui ve l'ho fatto ascoltare questo significa che questo momento qui momento negativo non solo ostacola il flusso ma lo rafforza perché il flusso si deve rafforzare per prendere veramente il via e esporre veramente il secondo il primo il primo tema in termini filosofici questo significa che questo iniziale momento negativo e soggettivo perché è Beethoven a metterlo dentro non il sistema tonale questo primo momento negativo contribuisce proprio perché ostacola la forma oggettiva costituisce il momento a partire dal quale poi la forma oggettiva si costituisce dal suo interno nella sua immanenza e soggettività espressività soggettiva e forma oggettiva la tonalità concrescono dialetticamente insieme e questo soprattutto poi appunto nello sviluppo e questo è il primo momento più dettagliato altro momento e posso togliere adesso la prima pagina della eroica ecco altro punto come ben sapete in Hegel ogni particolare è vero nel momento in cui compare ma diventa falso immediatamente dopo quando si passa al prossimo momento e all'interno dell'intero tutti i particolari sono falsi perché vero è soltanto l'intero ora qualcosa di questo genere lo troviamo anche in Hegel scusate in Beethoven perché Beethoven quando parliamo dei particolari nella musica ve l'ho detto prima ma qui lo ripeto parliamo dei temi e quindi della melodia della melodia la forma oggettiva è la armonia e la tonalità Beethoven che cosa fa con i suoi temi e questo lo sapete tutti ma adesso io hegelianamente lo porto a concetto ovvero vi sarete consapevoli consci di ciò che Beethoven fa perché se vi chiedete ma Beethoven che temi ha scritto? fondamentalmente ha scritto soltanto un vero tema melodico che è quello dell'ode alla gioia per il resto i suoi temi sono assolutamente scarni e poveri melodicamente parlando e questo perché lo ha fatto? perché li ha immediatamente dequalificati e questa dequalificazione gli è servito a renderli più fungibili all'interno del sistema tonale per costruire lo sviluppo attraverso lo sviluppo per costruire la forma intera nella sua totalità attraverso lo sviluppo ricordatevi che i due temi non devono solo essere intenzione contraddittoria ma anche complementari e più si avvicinano più sono appunto complementari quindi qui la dialettica in Beethoven funziona esattamente come in Hegel attraverso il momento poi della ripresa dove succede il superamento anche lì in Beethoven assistiamo a una elevazione a un momento in cui si toglie il rapporto che tra i due temi c'era prima ma i due temi sono ancora lì e quindi sono conservati anche se in forma diversa perché hanno attraversato tutta la mediazione dello sviluppo quindi alla fine il materiale tematico è intimamente mediato in sé e quasi non mostra più proprie caratteristiche particolari almeno all'orecchio Beethoven si spinge addirittura fino al punto dove deduce le melodie dagli accordi del sistema tonale ovvero rimaniamo nell'eroica se la tonalità è mi bemolle maggiore allora la tonalità è fatta di tre note io posso invece di suonare le tre note in modo contemporaneo suonarle in modo successivo quindi ho una melodia di tre note e se ci pensate bene quasi tutti i temi di Beethoven sono di questa semplicità perché alla fine questo gli serve per reintegrare i particolari soggettivi nella forma oggettiva del sistema tonale armonico tuttavia tuttavia alla fine Beethoven ho detto prima e lo ripeto qui è più vero di Hegel e già nell'eroica perché verso la fine battuta 284 Beethoven introduce un terzo tema non previsto dalla forma sonata un terzo tema in mi minore che è dedotto però non viene dall'esterno perché è dedotto dal processo musicale precedente però siccome è un terzo tema laddove la forma ne prevede soltanto due trascende o inizia già qui nella più classica delle sinfonie di Beethoven a trascendere la forma oggettiva che Beethoven adotta e quindi ci fa sentire o intrasentire oltre alla necessità della forma oggettiva che deve essere chiusa a un certo punto ci apre lo spiraglio del potenziale del possibile detto in una frase che piacevano ad Adorno è una parafrasi ovviamente possiamo esprimerci così l'identità artistica si autodenuncia come apparenza e non pretende di ricostruire attraverso la forma artistica la forma sonata il reale dal quale proviene e veniamo al secondo movimento sistema tonale e ricreazione della forma come vi ho già detto il sistema tonale rappresenta il linguaggio della collettività e quindi il momento della totalità nella composizione musicale il soggetto Beethoven che vuole esprimersi deve appropriarsi dell'oggettività di queste forme di questi linguaggi di queste grammatiche precostituite dalla tradizione e quindi Beethoven fa questo con il sistema tonale e il sistema tonale però è basato sul parametro dell'armonia non sul parametro della melodia e questo significa che alla fine tutto si deve svolgere o si deve ridurre alla tonalità nella quale il pezzo è stato scritto e questo significa in ultima analisi che non sono tollerati singoli momenti melodici autonomi perché tutto deve scatturire dai meri rapporti armonici fondamentali come la melodia che viene dedotta dall'accordo quindi vi è un principio di identità anche nella musica è inutile negarlo ma vi è anche un principio abbiamo visto di contraddizione ovvero di dialettica musicale i temi particolari costituiscono naturalmente attraverso il divenire contraddittorio dello sviluppo ma i temi alla fine costituiscono l'intero della forma tradizionale il vero anche nella musica classica è appunto l'intero l'inizialmente posto ovvero i temi ritornano nella ripresa vediamo ora Beethoven ha scritto poco sulla musica il primo che ha iniziato a scrivere sulla propria e sulla musica di altri è stato Schumann ma prima di Schumann i compositori ma gli artisti in genere hanno scritto poco di critico di filosofico sulle proprie opere o sulla propria arte Beethoven ha lasciato un piccolo testamento poetico diciamo così dove parla di due principi ecco come lui spiega la dialettica che si svolge nella sua musica il principio maschile e il principio femminile che cosa sono? sono rispettivamente la traduzione del soggetto creativo principio maschile e la collettività e le sue forme tradizionali il principio femminile cioè il linguaggio precostituito che il soggetto principio maschile si deve appropriare e ricreare a partire da se stesso da una impostazione soggettiva e autonoma che cerca di trovare una propria espressione Beethoven qui è molto ingenuo però funziona questa schematica descrizione e scrive il principio maschile soggettivo pone le sue richieste a che cosa? al principio femminile cioè le fa la corte detto un po' più semplificando pone le sue richieste ed entra in contraposizione con il principio femminile che rappresenta invece il sistema tonale come ciò si traduce in musica? si traduce attraverso gli intervalli piccoli cioè gli intervalli di seconda do re oppure do diesis seconda maggiore, seconda minore se volete che si contrappongono a che cosa? principio femminile all'accordo ovvero il canto si oppone all'armonia come ho detto prima quindi gli intervalli grandi a partire dalla terza minore sono gli intervalli che fanno parte del principio femminile perché a partire dalla terza minore io mi costruisco che cosa? gli accordi un accordo è fatto di una tonica una terza maggiore se è maggiore o una terza minore se è minore e poi una terza minore se è maggiore sopra o una terza maggiore sopra se è minore cioè 1, 3, 5 questo è il rapporto numerico di un accordo naturalmente sono possibili altre combinazioni ma questa è la base dalla quale si parte invece la melodia di solito si sposta da una nota all'altra non fa grandissimi salti almeno non nella musica tonale il principio maschile poi si avvale di accenti, di sincopi che spostano un po' il sistema tonale di riferimento di sforzati cioè sforza l'emissione del suono oppure di nuance che spostano anche loro quindi esiste questa dialettica tra il maschile e il femminile e il maschile lo abbiamo già visto il maschile era il do diesis sulla prima pagina della eroica è il momento negativo eccolo qui quindi se riprendiamo l'eroica abbiamo magari ve la rifaccio vedere eccola dai sali abbiamo il principio femminile che si afferma con tutta forza e vigore qui con i due accordi di Mimbo Nel Maggiore poi il principio maschile che pone le sue richieste al principio femminile ma soprattutto entra con questo momento negativo in una nota dissonante rispetto al sistema di riferimento e questo è il principio appunto maschile e qui l'abbiamo detto la dialettica musicale dunque è concepita in modo tale che a un certo punto nel movimento del materiale tonale la forma oggettiva dovesse risultare insufficiente e qui vediamo Beethoven in cammino verso la critica dell'impostazione dell'impostazione oggettiva cioè ci avviciniamo all'ultimo Beethoven che critica il Beethoven classico e lo fa e questo è importante per qualsiasi ragionamento sull'arte lo fa rispettando le regole del gioco cioè non viene dall'esterno non nega dall'esterno le forme che la tradizione ha prodotto oggettivamente non parla un'altra lingua rispetto alla lingua che ha preso in eredità lo fa rispettando le regole molto importante cioè lo fa rispettando il sistema tonale ma il sistema tonale diversamente da altri sistemi che si sono sviluppati nel 900 il sistema tonale e la forma sonata ivi compresa danno di per sé alla soggettività del compositore abbastanza agio abbastanza libertà di movimento perché può scegliere i temi quindi determinare il materiale di partenza e soprattutto nella fase importante della forma sonata nello sviluppo può lavorare con una grossa libertà nel combinare o dividere i singoli motivi quindi è attraverso il soggetto che la forma oggettiva si ricrea ovvero detto altrimenti la forma oggettiva non può fare a meno del soggetto creativo soltanto i soggetti che non hanno nulla da esprimere ripetono le forme così come sono quelli che invece hanno qualcosa da dire li ripetono cambiandoli ovvero li applicano trasgredendoli questo è il gioco che qui ha luogo e ripeto nella forma sonata noi abbiamo davanti a noi una forma molto propizia a questo gioco ah scusate ho fatto mi mancano due pagine ecco sette otto ok quindi lo schema formale della forma oggettiva viene ricreata dal soggetto in modo a volte anche del tutto del tutto nuovo ma dico ripeto rispettando rispettando le regole faccio un solo esempio ulteriore anche per farvi vedere che cos'è la fungibilità dei temi in modo tale da poter costruire un intero l'intero della forma oggettiva l'appassionata che molti di voi conosceranno nella appassionata i due temi sono praticamente identici sono cioè costituiti in modo tale che sono più unitari e complementari che non dialetticamente opposti la tensione tra di loro si riduce a un minimo e questo è molto importante per capire l'ulteriore sviluppo di Beethoven questo permette a Beethoven di costituire una forma come intero in modo tale che l'esposizione diventa così interpreta Adorno una prima strofa di un componimento più epico che non drammatico e dinamico lo sviluppo diventa la seconda forma la ripresa diventa la terza strofa alla quale si aggiunge una coda che diventa la quarta strofa quindi rispettando le regole cioè bitematismo sviluppo ripresa la coda fa parte della forma sonata Beethoven invece dall'interno inizia a criticarla e a confutarla demontando il suo cuore qual è il cuore della forma sonata ve lo ripeto è la tensione dialettica tra i due temi laddove questa si riduce la forma la dinamica della forma il dinamismo della forma diminuisce e si avvicina a quel tipo epico allegorico al quale adesso man mano ci avviciniamo cioè il baricentro della forma tradizionale viene spostato nonostante si rispettino tutte le regole di questa forma quindi abbiamo per schematizzare due tipi due tipi di sonata in Beethoven una è intensiva e drammatica che è quella classica dove si gioca con la contrazione con la contrazione col dominio e con l'abbreviazione del tempo che alla fine deve però creare che cosa? Quiete quando finisce conoscete tutti i finali di Beethoven quando finisce c'è un momento di quiete nonostante prima c'è stato un gran movimento e questo è il primo tipo il secondo tipo è estensivo epico ecco il secondo tipo che ricordo anticipa già Mahler e qui in questo secondo tipo lo svolgimento è meno dinamico e nell'arte del tempo che è la musica irrompe lo spazio e questo fa sì che la immanenza della forma inizia a venire sciolto cioè la forma si disgrega e quasi la musica che è l'arte del tempo quasi si arresta come abbiamo sentito prima nella eroica ma possiamo sentirlo o vederlo magari ancora meglio sempre nell'eroica vi condivido oddio dove siete rimasti ho tanti schermi aperti eccovi qua potete vederlo anche soltanto graficamente ecco questa è la prima parte del terzo movimento dell'eroica lo scherzo e guardate soltanto che cosa succede qui non succede niente sostanzialmente fino a qui non succede quasi niente e quello che succede qui è anche esso quasi niente vediamo la seconda pagina qui è un pochino più movimentato ma ascoltiamolo ascoltiamolo ecco mi fermo qui sostanzialmente anche qui c'è una sospensione creativa anche perché abbiamo a che fare con un unico intervallo abbiamo sempre queste due note sostanzialmente quindi viene tolta tutta la drammaticità che c'era prima e viene tolta con essa anche la mediazione importantissimo la mediazione cioè il soggetto e la sostanza per riprendere i termini di di Hegel non entrano più in una mediazione tra di loro la soggettività espressiva dunque inizia già qui ma sempre di più a intervenire immediatamente nel processo compositivo e non è più mediata dalla forma oggettiva e questa è una caratteristica dello spechtil che si esprime in una sottile ambiguità è quella che avete appena sentito dove non si sa proprio dove si debba andare anzi dove si pensa che finalmente parta la musica si torna indietro si ripete ecco l'ambiguità nello scherzo già nello scherzo dell'eroica ambiguità sospensione assenza di drammaticità assenza di mediazione sono momenti che caratterizzano lo stile maturo e che portano Beethoven ai limiti della forma sonata dove il momento oggettivo cioè la totalità del tempo dominato esteticamente perché è questo che mi rende possibile questa forma viene disgregata e progressivamente la forma perde la sua capacità di totalizzare la totalità al contrario si rivela essere apparenza come ho detto prima e il senso della forma non si trova più nell'attimo arrestato nella quiete della prima maniera di sonata che abbiamo incontrato ma si trova in che cosa qual è il gesto che d'ora in avanti contraddistingue la musica di Beethoven non più quello teleologico di andare verso qualcosa chiunque abbia sentito un po' di Beethoven sa che la sua musica parte ed è subito galloppo verso la fine invece il Beethoven maturo inizia a girarsi a guardare indietro e subentrano quei gesti di nostalgia di nostalgia guardare indietro quel carattere epico quel carattere epico che racconta quel che è stato ovvero molto famoso credo anche ai non addetti alla musica il gesto dell'addio Beethoven inizia a dire addio alla musica al mondo alla cultura ma anche alla propria vita e qui siamo arrivati all'ultima parte l'ultimo Beethoven che è difficile da caratterizzare infatti qui gli sforzi di Adorno persino di Adorno si sono arenati perché non può essere ridotto soltanto alla parte polifonico oggettiva cioè quella che guarda indietro che riprende la polifonia la fuga per esempio come forma che non si usava più la messa la missa solemnis questo è un lato dall'altro c'è il lato espressivo soggettivo tutte e due non possono essere estremizzati fanno tutte e due parte dell'ultimo Beethoven ma probabilmente non sono più mediabili tra di loro cioè non sono più riconciliabili tra di loro si potrebbe questo fa Adorno descrivere l'ultimo Beethoven con il modo in cui Goethe ha caratterizzato l'invecchiamento un progressivo dice Goethe l'invecchiamento è un progressivo allontanarsi dal piano dell'apparenza e in questo progressivo allontanarsi nel caso di Beethoven noi abbiamo quattro caratteristiche un po' schematizzato ma questo ci serve una la prima è la emergenza ovvero caso di emergenza il gioco estetico si fa serio non è più pensate ai giochi di Mozart già Beethoven non è più Mozart ma soprattutto l'ultimo Beethoven non è più classico anzi l'ultimo Beethoven lo saprete bene assomiglia molto più al primo novecento che non al classicismo vienese quindi il gioco estetico denuncia il proprio carattere di parvenza e trascende inizia a trascendere l'oggettività della forma gli ultimi quartetti di Beethoven stiamo parlando di questi non costituiscono più una individualità chiusa in sé una forma totalizzante una seconda natura per esprimerci con Hegel una unità costruita a partire dalla propria immanenza ma trascendono l'immanenza perché sono caratterizzate da forti parentele tematiche e si possono montare insieme singoli movimenti di singoli quartetti anche in modo diverso rispetto al modo in cui lo si faceva prima gli ultimi quartetti anche qui il gesto dell'addio non possono finire non possono finire e si rifiutano di costituire un senso e una totalità significante all'interno della mera dimensione estetica e qui irrompe naturalmente qualcosa di politico siccome il tempo occorre rinuncio agli ascolti magari lo possiamo riprendere dopo primo momento secondo momento dello Spechtil Beethoven non dispiega più i significati lungo un arco temporale teleologico rinuncia cioè a dominare e quindi a strutturare il tempo il tempo implode il tempo implode la teleologia esce dalla composizione dalle composizioni di Beethoven e Beethoven condensa il tempo in piccoli spazi come poi farà Anton Webern cento anni dopo cito qui perché lo si può riassumere in parole molto bene l'opera 101 la sonata per pianoforte in La Maggiore che è un grandissimo movimento con un grandissimo respiro ma se aprite la partitura è lungo soltanto due pagine soltanto due pagine un primo movimento di una sonata per pianoforte scritta da Ludwig van Beethoven e questo è il secondo momento terzo momento la desensualizzazione o spiritualizzazione e la dimensione orizzontale che prima cioè la melodia che prima era solo funzionale per la costruzione dell'armonia e della tonalità questa cioè la melodia ora viene ulteriormente ridotta per consentire l'apparizione di qualcosa di spirituale allontanarsi dal mondo delle apparenze spesso addirittura i risultati musicali non nascono più dal materiale compositivo oggettivo ma vengono immessi dalla soggettività autonoma viene cioè distrutta l'ho detto all'inizio la unitarietà simbolica significativa della forma e subentra l'allegoresi l'allegoresi è sempre fortemente soggettiva pensate soltanto a Dante se non avessimo le note a piedi pagina noi non potremmo comprendere tutte le allegorie che sviluppa quindi allegoresi fortemente improntata all'esperienza soggettiva ma l'allegoresi è sempre anche in grande vicinanza con la morte e con la decadenza con la morte e con la decadenza e l'allegoresi non è autonoma come il simbolo il simbolo mi dice immediatamente che cos'è e che cosa significa l'allegoria invece richiede che io fruitore decifri il suo enigma questo sia nella letteratura sia nelle arti visive dove ci sono le allegorie perché nascono lì sia nella musica sia qui nella musica le allegorie devono essere completate dal fruitore perché esse non sono più tra di loro mediate e scompaiono praticamente negli abissi della parvenza estetica dove solitamente c'era la mediazione che copriva queste crepe e questi abissi Beethoven questo ora non lo fa più non media più a costa come poi succederà nel romanticismo da Schubert fino a Brahms e Mahler ecco vi dicevo la mediazione la mediazione scivola sempre più in sottofondo e di conseguenza il carattere drammatico dinamico dialettico retrocede anch'esso rispetto a questi momenti epici allegorici che dice Adorno addirittura si spinge fino a questa affermazione questi momenti mortificano la musica questa è una presa di posizione a mio avviso molto soggettiva però è di Adorno e quarto e ultimo momento la polarizzazione dei parametri musicali cosa sono i parametri armonia melodia e ritmo limitiamoci a questi vengono polarizzati e dunque dissociati dunque dissociati anche qui perché non c'è più mediazione tra ritmo armonia e melodia cioè non c'è più sintesi non c'è più sintesi ma diciamo pure un elenco diciamo pure un elenco il sistema tonale viene dissociato anch'esso naturalmente questa è una naturale conseguenza e qui nel in che cosa nell'estremo polifonico o melodico e in quello omofonico ovvero armonico non si costruisce più un'unità attraverso il linguaggio oggettivo ma la premessa soggettiva diventa essa stessa il risultato oggettivo non si mediano più i passaggi da un accordo all'altro ecco come si sfalda anche il sistema tonale ma li si accostano quindi non si modula più termine tecnico è questo qui da un accordo a un altro accordo le sincopi che abbiamo visto far parte del principio maschile accentuano il ritmo diversamente rispetto all'armonia e questo fa sì che si dissocia anche il fondamento del sistema tonale che è la dimensione armonica quindi il significato dell'intero passa alla parte tutto il contrario rispetto a Higel il vero come dice Adorno nei minima moraglia è il l'intero dice nei minima moraglia l'intero è il non vero e questo lo dice già Beethoven qui l'accordo si sostituisce come allegoria alla processualità e alla mediazione dello sviluppo del sistema tonale la grande forma si dissocia dal tema ovvero l'oggetto si dissocia dal soggetto la sostanza si dissocia dal soggetto nella nona sinfonia addirittura viene contrapposto duramente e aspramente il tema più importante nel quarto movimento quello della gioia a che cosa? alla tessitura armonica del movimento le due cose cioè il tema più importante e l'armonia non vengono più mediati si dissocia infine l'ideale classico sul quale si fondava il classicismo dianese che è quello di Haydn che mettono che sintetizzano la dimensione popolare oggettiva sostanziale con la dimensione erudita del compositore soggetto la musica non parla più il linguaggio dell'individuo che nelle cesure della composizione infatti si ritira dall'opera chiudo questa parte perché siamo oltre il tempo e vi faccio sentire una brevissima parte prima però vi dico le ultime battute l'allegoresi dello specchi dello stile maturo si allontana appunto dal piano dell'apparenza e affonda le sue radici nell'anorganico e nell'amorfo ricordatevi l'allegoresi e le sue relazioni con la morte e la decadenza perché Beethoven si rende conto della oramai totale nullità dell'individuale all'interno dei sistemi oggettivi esistenti non solo musicali ma anche politici il rapporto con la morte entra nel centro e il soggetto esce dalla forma lasciando libero tutto ciò che prima sovranamente dominava e depone definitivamente l'apparenza artistica come appunto nella cavatina che è il quinto movimento dell'opera 130 un quartetto d'archi e vi faccio ascoltare e con ciò chiudo Adorno dice che in queste battute che sono da 23 a 30 appunto della cavatina qui dice Adorno l'assoluta caducità della musica viene aus componier cioè viene composta fino in fondo eccolo qui di l'assoluto Grazie a tutti. Ecco, io avrei finito. Vi ringrazio della vostra attenzione. Mi scuso se ho preso più tempo del dovuto. Grazie mille a lei. Marcello ci sei, vero? Grazie mille per questo intervento. In questo momento se ci sono domande, aprire il microfono che ha in questione. Rivolgere dei commenti, dei dubbi. Sì, la chat è disattivata, quindi se qualcuno vuole commentare o porre un quesito, accenda pure il microfono. C'è un cane che vuole fare una domanda. Sì, è qua da me. Ah, ok. Il suono creaturale, la cosa più bella del mondo. Se non ci sono domande farei una domanda io nel frattempo. Volevo chiedere riguardo una possibile obiezione di essere rivolta. C'è un po' di eco. Prova a parlare. Forse lei dovrebbe chiudere il suo microfono. C'è anch'io. Ah, ecco. Sì, adesso non lo sento più. Volevo chiedere appunto una possibile obiezione che potrebbe essere rivolta al ragionamento di Adorno. Non potrebbe essere, a parte il fatto, ma quello è secondario, che dal punto di vista biografico Hegel si sia tenuto a prudente distanza dall'estetica musicale di Beethoven. Più che altro da un punto di vista di argomentazione filosofica, Hegel ha sempre insistito su il fatto che la logica musicale o comunque artistica e invece la logica del concetto viaggino su due binari differenti perché il medium del linguaggio appunto è per questo anche perché da una predilezione particolare alla poesia si dimostra più efficace nel coinvolare contenuti concettuali perché appunto Hegel è presente questa distinzione molto forte tra suono usato in senso simbolico e suono usato in senso segnico, quindi il segno denota una maggiore arbitrarietà e si esprime in particolar modo nel linguaggio, mentre la musica appunto è più soggetta ad ambiguità. Mi chiedevo se questo tipo di distinzione che invece in Adorno non è presente non potesse invece indurre due tipi di problemi, quindi da un lato Adorno rischia di squalificare la sua argomentazione perché la sua stessa argomentazione è di tipo discorsivo, filosofico, quindi appiattirla sul sistema tonale o comunque su un linguaggio che invece ha una sua specificità artistica rischia appunto di confondere le acque e appunto dal punto di vista speculare Adorno non rischia invece di non riconoscere alla musica una sua sfera autonoma e quindi svalutare troppo la componente anche sensibile della musica a livello fenomenologico direi proprio non rischia di diventare la musica qualcosa di troppo simile alla filosofia e non so, questo per esempio non potrebbe spiegare la sua difficoltà nel descrivere lo stile tardo perché è un betoveniano perché forse è quello dove emerge di più il lato formale della musica e quindi il linguaggio sonoro, sensibile di cui si compone Grazie Marcello Sì, capisco, ma credo che non sia così visto anche che non ci sono molte domande mi prendo un pochino più di spazio per quanto riguarda, perché bisogna entrare un po' più adentro non credo che Adorno corra il rischio Adorno sì, certamente è probabilmente anche il più hegeliano del Novecento rispetto anche a molti altri però non credo che che incorra nello stesso non voglio dire che Hegel abbia commesso errori chi ha il diritto ma nello stesso problema che c'è in Hegel che io chiamo la spiritualizzazione progressiva delle arti che è la spina dorsale dell'estetica di Hegel dall'architettura fino alla poesia si arriva a forme espressive, artistiche sempre più spiritualizzate Adorno ha visto molto bene questo problema nell'estetica di Hegel e si è sempre opposto con varie argomentazioni ne cito soltanto una dalla teoria estetica dice Adorno di Hegel siccome è Hegel a dirci che l'arte nasce da dei bisogni che poi sono le sofferenze le manchevolezze che sono insite alla realtà finché ci sono questi bisogni l'arte non scenderà dal palcoscenico della storia e quindi con Futa Hegel con se stesso lo faccio solo come esempio qui ovviamente bisognerebbe entrare più in dettaglio il fatto che lei ha citato la fenomenologia ecco io sono perfettamente d'accordo su questo un approccio meno dialettico su questo non ho problemi un approccio meno dialettico e più fenomenologico soprattutto nei confronti dell'ultima produzione beethoveniana probabilmente avrebbe salvato il progetto del libro su Beethoven ma questo non era possibile per Adorno che come sapete una volta che aveva preso una posizione e una decisione ovvero con la dialettica dell'illuminismo insieme a Horkheimer non se n'è più spostato ecco primo punto della risposta secondo che è un po' più complicato e che ha al centro il concetto di materiale artistico Adorno lo sapete ha definito variamente questo concetto ed è un concetto molto importante un materiale che che sono le forme oggettive delle quali parlavo prima il materiale artistico è storicamente in viaggio e attraverso il corso storico naturalmente cambia e ognuno lo riceve in una certa maniera e poi lo cambia a sua volta e lo lascia e lo lascia ai posteri su questo punto Adorno non è mai venuto meno e lo ha sempre posto al centro delle sue riflessioni al di là di tutta la concettualità che poi ha posto in campo che è la concettualità della dialettica ovviamente hegeliana in questo senso Adorno non ha diciamo non ha seguito Hegel nella spiritualizzazione dell'arte anzi se ne è opposto piccolo esempio laddove la spiritualizzazione non finisce con Beethoven non finisce con Hegel non finisce neanche con Schoenberg o con Schlockhausen lo sappiamo bene anzi noi oggi assistiamo a un contromovimento in realtà cerco di spiegarlo un po' meglio la spiritualizzazione in Hegel conduce alla famigerata morte dell'arte perché il concetto filosofico è più adatto a fare i conti con una società e un mondo con una realtà che è diventata astratta e siccome è astratta deve essere compresa nella sua astrattezza da strumenti altrettanto astratti ecco questi strumenti non li non ce li dà più l'arte ma vengono forniti dalla filosofia questa è la versione hegeliana ecco perché l'arte esce dalla centralità che ricopriva nella classicità greca non muore propriamente anche perché hegel non parla mai della morte dell'arte ma della dissoluzione della forma dell'arte diventa cioè marginale e qui hegel ha visto perfettamente perfettamente l'arte non ha più questo compito educativo formativo delle coscienze che aveva nella antichità greca centralmente vi ricorderete Erodoto sono stati Esiodo e Omero a dare ai greci i loro dei e quindi le loro forme politiche le loro forme e via dicendo questo non è più il caso in quel che hegel chiama arte romantica non è più il caso e qui hegel ha visto bene hegel però ha commesso un errore poi torno ad adorno un errore e qui sì un errore concettuale ma lo ha fatto scientemente un genio come hegel non fa le cose perché gli capitano se voi seguite la costruzione della gerarchia delle arti anche hegel usa sempre il materiale non usa questo termine ma il concetto è lo stesso l'architettura costruisce con le masse pesanti la scultura alleggerisce queste masse e mette in scena il corpo umano la pittura usa il gioco di ombre e luci e con ciò crea i colori introduce la parvenza o l'apparenza perché è bidimensionale ma fa vedere qualcosa di tridimensionale quindi più spirituale rispetto alla scultura la musica entra ancor più nella interiorità riduce le due dimensioni spaziali a quell'unica che è il tempo ed esprime attraverso la vibrazione nel tempo l'interiorità che viene percepita da un'altra interiorità fin qui Hegel parla del materiale il suono e lei giustamente Marcello lo ha sottolineato ma quando passa alla poesia dice che la poesia usa ancora il suono ma non come suono ma come diceva giustamente lei ma per veicolare dei significati spirituali questo dal punto di vista logico si chiama metabasis eis allogenos cioè si sposta da una base da un livello a un altro livello infatti ha bisogno di un sesto senso per coordinare anche i sensi alle singole arti ma qui mi fermo nella critica a Hegel però Hegel ecco perché doveva costruire un concetto di poesia il più possibile vicino al concetto filosofico soprattutto per quanto riguarda la tragedia ecco che si sposta rispetto a tutte le altre arti costruisce un quarto una quarta forma di spirito assoluto perché e questo lo dice nella prima delle lezioni dei corsi di estetica del 21 che adesso sono state pubblicate queste lezioni e lo dice chiaramente c'è l'arte c'è la poesia c'è la religione e poi c'è la filosofia ma questi sono spostamenti non molto dissimili da quello che ho voluto spiegare con lo Spechtil di Hegel scusate di Beethoven in Adorno invece non assistiamo a questo il suo maestro di composizione Alban Berg gli ha sempre detto lei prima o poi si deve decidere tra Beethoven e Kant ecco questo lui non l'ha mai fatto e qui lo devo difendere ha sempre parlato dell'arte parlando delle opere d'arte gli è successo che il concetto filosofico abbia preso il sopravvento questo non lo nego ma molto raramente è sempre stato molto attento proprio al lato fenomenico e al lato sensibile dell'arte e chiudo con la filosofia della nuova musica dove ha criticato il compositore che più di tutti ammirava cioè Schoenberg nel momento in cui dalla libera attonalità o dalla libera dissonanza per intenderci dagli anni 10 al 23 circa è passato alla dodecafonia cioè al nuovo sistema oggettivo con il quale la soggettività creativa doveva entrare in contatto ma che la dodecafonia per chi non lo sapesse la dodecafonia espelle via più la creatività soggettiva perché è un sistema molto più coercitivo rispetto alla tonalità e soprattutto rispetto a tonalità libera ecco Adorno lo ha fortemente criticato lo ha addirittura paragonato a sistemi totalitari e alla filosofia di Spengler che non era esattamente un compagno di lotta di Adorno grazie moltissimo per questa risposta anche molto ampia circostanziata e anche per l'intervento molto puntuale denota anche una conoscenza dei testi musicali profonda come avevo detto all'inizio chiederei se sono altre domande o Marcello se non ci sono domande io posso aggiungere il quarto movimento e dalla sonata facciamo una sinfonia così da finire anche con un po' di leggerezza in più però mi dica lei se è d'accordo sì sì si può fare penso possiamo cercare di fare perché volevo chiudere con un po' di aneddoti che nel caso di Beethoven sono piuttosto significativi ma noi noi abbiamo ancora se dieci minuti ce la facciamo riprendere un pochino il discorso dove l'ho finito con la cavattina e poi passare agli aneddoti allora abbiamo visto che il soggetto abbandona il palcoscenico drammatico prende un lunghissimo addio pensate al trillo nel secondo movimento dell'opera 111 la sonata per pianoforte più famosa di 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 Beethoven un lunghissimo addio perché si rende conto che la forma non contiene più il soggetto compositore ovvero che la sostanza non contiene più il soggetto ma questo vuol dire di riflesso che anche il soggetto non contiene più la sostanza non si riescono nemmeno a recuperare forme più arcaiche come abbiamo visto nella Missa Solemnis anche perché Beethoven è questo lo dice Thomas Mann nel Dr. Faustus ma state attenti io sto sempre parlando di Adorno perché la parte musicale del Dr. Faustus è scritta da Adorno lo si capisce se si leggono queste pagine del Dr. Faustus in parallelo con alcune pagine proprio del Beethoven di Adorno ecco che cosa che cosa leggiamo sia nel Dr. Faustus lì un po' di più perché era più una cosa di Thomas Mann ma anche in Adorno il processo di soggettivizzazione che inizia con Cartesio in filosofia e che raggiunge il suo apice in Hegel dove appunto tutto viene ricostruito attraverso il lavoro e la fatica del concetto del soggetto e che ha il suo panda musicale in Beethoven questa soggettivizzazione non può essere arrestata e Beethoven non lo fa lo tenta di fare guardando indietro ma poi si rende conto che non è possibile non lo fa Hegel Hegel critica i nazareni che volevano recuperare forme espressive pittoriche del passato di critica anche aspramente perché la soggettivizzazione appunto ripeto non può essere arrestata non si riesce più però e questo è l'altro lato del problema a tenere insieme soggettività o soggettivizzazione e sostanza attraverso la soggettivizzazione e questo è il dilemma che da Beethoven Hegel si è protratto fino a Mann Thomas Mann e Adorno perché la libertà dà dalle convenzioni anche musicali ma anche politiche ed etiche ecco da questa libertà da qualcosa non si è stati capaci sia a livello politico sia a livello musicale a passare a una libertà per che cosa per ciò che Beethoven per cui Beethoven ha sempre lottato ovvero la fratellanza tra gli uomini se voi leggete il testo che ha musicato nel quarto movimento della nona cioè l'inno alla gioia ecco che trovate esattamente questo ideale più che l'uguaglianza e la libertà ecco questa non è stata possibile la rivoluzione è fallita e in Thomas Mann cento anni dopo Adrian Levacu il protagonista compositore anche lui dice a un certo punto bisogna spazzare il cuore con la scopa rispetto alla soggettivizzazione in musica rappresentata da Beethoven e in un altro punto dice bisogna diventare molto più barbari per riessere civili o per ritornare ad essere civili ecco e e quindi Beethoven che passa dal dinamico dialettico e drammatico all'epico e all'edorico dissociando l'ideale classico e umanistico haydniano di cui ho parlato prima anche in Beethoven tutto ciò non è da leggere soltanto come critica e autocritica del classico in musica bensì anche in modo politico rispetto al proprio presente ecco tre aneddoti così finiamo in leggerezza Goethe e Beethoven si sono incontrati questo però non è non è un aneddoto veramente sicuro viene raccontato da Bettina von Arnim ma ci sono un po' di dubbi però esprime qualcosa che è molto vicino a Beethoven ecco Goethe e Beethoven si incontrano a Teplitz che era una località termale fanno una camminata e arriva il calesse della famiglia imperiale Goethe naturalmente fa subito posto va sul ciglio della strada e si inchina Beethoven va avanti a camminare dicendo a Goethe ma lei che cosa fa? scusi sono loro che devono inchinarsi nei nostri confronti non il contrario ecco il primo il secondo è già più noto che riguarda di nuovo l'eroica l'eroica aveva nella fase compositiva quando Beethoven ci stava lavorando un nome molto chiaro era la Bonaparte Sinfonie doveva essere dedicata a Napoleone Bonaparte siccome però Bonaparte si è incoronato imperatore Beethoven ha cancellato la dedica a Napoleone ha scritto qualcos'altro che adesso è stato stampato quando la partitura era praticamente già in tipografia perché Beethoven riteneva e qui era molto lucido molto più lucido dei suoi coetanei politicamente parlando perché Napoleone aveva tradito gli ideali della rivoluzione e vengo al terzo aneddoto col quale voglio chiudere e per il quale però no lo faccio dopo ve li faccio vedere dopo ecco Beethoven aveva un fratello minore che lo aveva seguito da Bonn a Vienna era un viveur che però a un certo punto aveva fatto un po' di soldi molto fiero di tutto questo si compra un podere alle porte di Vienna dal nome Gneichsendorf e molto fiero anche di questo acquisto scrive al fratello maggiore un biglietto su quale c'era scritto Johann Jakob van Beethoven Gutsbesitzer che vuol dire proprietario terriero ovvero latifondista Beethoven Ludwig invece ha dirato con suo fratello gli scrive un altro biglietto Ludwig van Beethoven Gehirnbesitzer proprietario di Cervello e adesso vi faccio vedere questi ritratti che sono molto esplicativi credo ecco di qua qui a sinistra il fratello minore che non sembra neanche il fratello e non soltanto perché il pittore non era bravo come quello che ha fatto il ritratto di Beethoven quindi per chiudere il soggetto è andato perduto alla sostanza come abbiamo visto e ciò sottrae ogni vincolante fondamento di verità non soltanto al soggetto ma altresì alla stessa sostanza per quanto essa si rifugga anche nella sistematicità filosofica come voleva Gehirn ecco con ciò ho finito grazie ancora moltissimo per il suo intervento ringrazio anche Simone Milesi che è stato con noi rappresenta il centro di musica antica che ci ha aiutato a organizzare questo evento e a questo punto cedo la parola a Marta per la conclusione anche io ringrazio tutti i presenti ringrazio tutto il professore Marcello e Simone auguro a tutti una buona serata e non dimenticatevi che c'è ancora un incontro la prossima settimana se non erro Marcello giusto? quale di alle 18 esatto e professore ha piacere di partecipare naturalmente benvenuto sì sì ma io vengo ce l'ho in agenda il primo e secondo non potevo perché avevo a mia volta un'altra cosa colgo l'occasione per nuovamente ringraziarvi molto dell'occasione e ci vediamo al prossimo e ultimo incontro grazie davvero grazie a lei arrivederci a tutti arrivederci grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.